Vittorini è una delle figure più importanti del Novecento letterario, uno scrittore che vede nella letteratura uno strumento politico per comprendere la realtà e fu comprendendo la realtà che decise ben presto di lasciare la militanza fascista per sposare quella comunista. Edgar Ophano Rosso fu censurato proprio perché denunciava lo spirito violento del metodo fascista. Vittorini rimase sempre uno scrittore fedele alla sua linea. La scrittura doveva essere un metodo per arrivare alla verità e non un puro esercizio stilistico. Fu forse questo uno dei motivi che creò la clamorosa rottura con Togliatti. Il Politecnico, secondo Vittorini, doveva informare e poi, soltanto poi, educare, mentre Togliatti, che aveva uno spirito idealista e più pratico e più fretta di cambiare la società, voleva inculcare nelle menti la validità delle dottrine comuniste. Una rottura che fu praticamente insanabile.